Non si placano le polemiche a Chieti sugli stipendi mensili spettanti a sindaco, vice sindaco, assessori e presidente del Consiglio Comunale. Dopo la pubblicazione degli emolumenti con una nota pubblicata sull'albo pretorio, l'opposizione si è scagliata contro il sindaco Ferrara, accusato di scarsa sensibilità istituzionale in un momento particolare di emergenza sanitaria. Noi non facciamo parte di una classe politica che dopo aver raccolto il consenso della popolazione la tradisce e aumenta lo stipendio. Questa è una falsità ed una calunnia e vedremo anche se è possibile discuterne nelle sedi appropriate. Noi abbiamo fatto una delibera che reintegrava le indennità di funzione, abbiamo deciso di versarne una quota, quel famoso 7% di cui i nostri detrattori parlano, da mettere su un condo corrente chiamato Chieti sostiene a disposizione delle famiglie in difficoltà per via dell'emergenza Covid. in modo che arrivi un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Lo staff del sindaco innanzitutto è una libera considerazione e la libertà che il sindaco può fare e questo staff sta sostenendo l'amministrazione non solo come indirizzo politico, ma è in collaborazione stretta con il personale dell'ente per restituire dignità di lavoro ai dipendenti comunali dopo anni di abbandono. A questo serve lo staff che in base all'articolo 90 del testo unico degli endi locali accompagna ogni amministrazione perché prescinde dall'appartenenza politica e di chi amministra. Con questo io spero che si faccia fine, che si metta fine a queste becere politiche sia sui giornali da parte di amministratori della precedente amministrazione che non hanno probabilmente altro da fare e soprattutto sui social dove imperversano calugne e falsità che noi veramente respingiamo con forza perché la nostra Giunta sta lavorando 12 ore al giorno per il bene della città.